Squadra isolata dalle questioni giudiziarie che hanno riguardato nelle ultime ore il presidente Canonico, ma allo stesso tempo vicina al patron del club. Calciatori, staff tecnico e dirigenziale, tutti convinti che Nicola Canonico ne uscirà presto dimostrando la sua estranetà alle contestazioni mosse dall'inchiesta su una presunta corruzione elettorale riguardante le elezioni amministrative baresi del 2019. Uno dei calciatori più rappresentativi del gruppo, Filippo Costa, non fa giri di parole davanti all'inevitabile domanda. Prima noi pensiamo, il nostro pensiero è la partita di Viterbo, noi siamo qui per giocare a calcio, queste sono cose che non ci riguardano, posso solo dire che siamo vicini al presidente e speriamo che si stemi tutto quanto il prima possibile. Testa dunque alla Viterbese, prossimo avversario sulla strada dei Rossoneri, che sul campo sembrano aver trovato quella serenità e quei meccanismi che sono mancati nel traumatico avvio di campionato. L'obiettivo è quello di vincere, poi ogni partita ha una storia a sé, noi faremo di tutto per vincerla e sperando di portare a Foggia i tre punti. Oggi unica seduta con allenamento effettuato stamane alla FIGC, sarà così anche domattina e sabato, giorno in cui è programmata la rifinitura, che scioglierà tutti i dubbi di mister Gallo in vista della trasferta sul campo dei laziali. A lume di naso però il tecnico confermerà in blocco l'undici base che nelle ultime uscite ha dato prove di equilibrio e forza, componenti che hanno consentito di conquistare ben sette punti nelle ultime tre gare.